Allora inizierei con un cappello introduttivo proprio su questo progetto denominato Iresdes. Di che si tratta? Si tratta di un progetto europeo voluto da Confim Industria Digitale e Confim Industria che si occupa in ambito europeo appunto di relazioni sociali e dialogo sociale in un contesto 4.0 per parafrasare la rivoluzione industriale 4.0 e si occupa in particolare di due tematiche che sono quella degli skills, cosiddetti skills, per cui la formazione e anche dei modelli innovativi di lavoro, definito telelavoro ma che invece deve evolversi verso una forma molto più evoluta che è lo smart working. Ecco, prima le ha sottolineato che spesso si parla di lavoro da remoto confondendolo con lo smart working. Questo è un errore che si compie spesso. Sì, perché molti sono convinti che lavorare da remoto, ma perché poi si parla in modo improprio, si ha smart working. Smart working vuol dire che è un processo di innovazione, non è una modalità tecnica di lavorare perché è necessario riscrivere le regole. Per esempio definire anche un parametro di produttività che non può essere più l'ora, ma bisogna lavorare per obiettivi, bisogna definire parametri, bisogna fare formazione, bisogna fare accompagnamento. Ed è un tema che occorre affrontare con gli imprenditori, i dirigenti, i lavoratori, tutte le parti sociali. È un tema complesso, ma sul quale occorre maggior consapevolezza per capire che lo smart working non è telelavoro. Due parole chiave, ho dato competenze, aggiornamento che deve passare e per i lavoratori, ma anche per gli imprenditori. Assolutamente, la formazione è importantissima sia per formare nuove competenze, ma anche per migliorare quelle attuali, perché abbiamo parlato anche di lavoratori che devono in qualche modo affrontare nuove macchine, nuove tecnologie, per cui devono essere formati. Ma in primis, parliamo dei piccoli imprenditori, soprattutto occorre anche formare gli imprenditori, perché possano a loro volta formare i loro dipendenti, perché possano acquisire maggiore consapevolezza di cosa significhi digitalizzazione. E quello che ho detto è che occorre cambiare la forma mentis della governance dell'impresa, altrimenti non riusciremo poi a cascata a far sì che gli imprenditori si occupi di queste tematiche nei confronti dei propri lavoratori e quindi del proprio business. A proposito di business, le chiedo la digitalizzazione sistemica. Quanto è già il presente delle nostre aziende? Parliamo in senso generale di digitalizzazione. Anche qui, come affermavo durante il workshop, Industria 4.0, la quarta rivoluzione industriale, non è innovazione incrementale, è innovazione radicale. Perché oggi disponiamo di molte tecnologie, ma spesso non sappiamo come impiegarle, perché manca un piano, la consapevolezza di come utilizzarle, non c'è una visione, spesso non c'è una visione. E si fa sì che basta introdurre un sistema di automazione e si è convinti di fare Industria 4.0. Non è assolutamente così. Mi permetto di aggiungere che gli stessi incentivi previsti dal piano Transizione 4.0 spesso non hanno avuto quei risultati auspicati, perché si è puntati in alcuni casi più sull'incentivo fiscale e quindi si è acquistato macchinario che poi però non è stato in qualche modo produttivo per un cambiamento di piani produttivi, modelli di business, che è quello che intende Industria 4.0, un cambio del modello di business e un cambio del modello produttivo.